Ora sono con noi in studio l'onorevole Carlo Calenda di Sanna Europea, europarlamentare, con questa formazione politica che, diciamo, nasce e Carlo Calenda ci ha detto... Europa Viva la chiamano... No, io odio questi nomi. No, però le piace. Sto ragionando su tutto un altro piano. No, ma l'Italia Viva le piace. No, non mi piace perché sono nomi che non vogliono di niente. Queste sono tutti derivazioni da Forza Italia di Berlusconi. Berlusconi ruppe il sistema dei partiti classici liberali, facendo Forza Italia, solo che all'epoca c'era una carica innovativa forte, cioè si sapeva che era una cosa nuova. Adesso però dire a lei che è un comunicatore che ha sbagliato la comunicazione, secondo me si diceva che è brutto chi faceva meno danno. Io non ne capisco niente, cioè io sto dicendo un mio parere personale, poi sarà un nome bellissimo, dico a me, io personalmente... No, non piace neanche approvi. Serve un nome che comunica che cosa stai facendo. Cioè se tu comunichi il fatto che stai facendo una cosa viva, ci credo che stai facendo una cosa morta. Certo, questo è vero.